E' finalmente arrivato il momento di dare vita al Busona Motor Show con Francesco Diaco, l'anima di questo evento, poche ore e poi finalmente lo spettacolo dei motori ma non solo. Quanto lavoro c'è stato dietro Franco fino a questo momento e quanto lavoro ci sarà ancora? Allora in questo momento siamo in prossimità di lavori, stiamo eseguendo tutti i lavori per mettere in sicurezza l'aria e per gestire al meglio possibile questo Motor Show e per la riuscita dell'evento. Un evento che per tre giorni porterà auto ma non solo, moto e tutto ciò che è il mondo dei motori per uno spettacolo che negli anni ha attirato tantissima gente. Quindi immagino che vi aspettiate anche che il pubblico risponde in maniera adeguata. Guarda, l'affluenza delle persone che sono venute a trovarci già in pre Busano Motor Show è tantissima. Dalle autorità a tutta la gente che gli piace questa tipologia di evento. Aspettiamo molte auto, molti aspettatori e viva il Busano Motor Show, l'unica cosa che posso dire. Dicevamo prima, tanto lavoro soprattutto perché un evento di questo livello deve avere a livello di sicurezza il massimo. Allora noi ci siamo preoccupati tantissimo nella sicurezza. Allora parliamo della sicurezza in pista. La sicurezza in pista abbiamo messo ballotte di paglia in tutto il circuito dove abbiamo i nostri cuscini di appoggio se dovessimo poter sbagliare o che. E invece come pubblico abbiamo ottenuto delle distanze di sicurezza molto 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 elevate. Si parla di 12-13 metri più e poi saliamo su un terrapieno che la gente è tutta lì sopra. Tutto transennato con tutte le persone di sicurezza, le mie persone di sicurezza, che gestiscono la parte che noi teniamo di più. Infine, se ci puoi dire, raccontare quali saranno, diciamo così, tra i tanti momenti, perché sono veramente tanti, quali sono i momenti clou di queste tre giorni del Busano Motor Show? Allora, se te lo devo dire in questo momento, te lo dico, il momento clou, siccome il mangiare qua per in questo momento scarseggia da parte mia perché sono molto impegnato, il momento clou è il cibo. Però no, 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 questo mi aiuta un po' a dimagrire perché ne ho bisogno e automaticamente il momento clou è quando i nostri piloti le mettiamo a esibirsi e io penso che la notturna è molto attraente. E poi la domenica, la domenica è il Motor Show. Io penso che arriva molta gente, tanta gente mi telefona preoccupata per la pioggia. Io dico sempre solo una cosa, io ho un santo in paradiso e quel santo mi aiuta. Ciao papà. In ultimo, ricordiamo anche che Busano Motor Show è anche beneficenza e anche solidarietà. Voi avrete anche un appuntamento sabato pomeriggio importante, quello con il Taxi Drift dove aiuterete l'associazione, un'associazione appunto che si dà da fare per quanto riguarda il territorio. Allora, qui mi voglio soffermare un pelino di più. Allora, siccome queste cose qua di aiuti sociali diventano poi una parte di polemica, io voglio comunicare a tutti, e lo faccio davanti alle telecamere, che noi come Team Fast Drive e io in prima persona e la mia famiglia Diaco Francesco e la famiglia di Diaco Francesco noi non toccheremo un euro di queste beneficenze. Sta beneficenza viene fatta direttamente sul posto, le iscrizioni le prenderanno direttamente questa associazione per questa famiglia bisognosa. Noi non toccheremo nessuna parte di denaro. Allora, a questo punto invitiamo tutti a passare qualche ora in allegria, in divertimento e godendosi i motori al Busano Motor Show. Vi invitiamo tutti, vi invitiamo a sabato pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30 per aiutare una famiglia bisognosa e facciamolo col cuore, facciamolo tutti assieme. Sempre tutto in piena sicurezza. Per chi salirà in macchina saranno dotati di caschi e cinture e tutto quello che serve per andare in sicurezza. Non preoccupatevi, metteremo anche, daremo anche a disposizione dei sottocaschi per l'igiene. Grazie a tutti.